La promozione dello sport passa soprattutto attraverso i piccoli. Con questo obiettivo ritorna la non edizione di Io Giro in Bici, la manifestazione dedicata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni, organizzata dalla Federazione Ciclistica Italiana, ASD Interclub Ponchiera ed Associazione Ava, con la collaborazione del patrocinio dell'amministrazione comunale di Sondrio. L'evento, che si svolgerà sabato a partire dalle 14 presso il patinodromo di Via Torelli, prevede due prove speciali, ovviamente legate al mondo delle due ruote, una a gara di velocità ed una ad ostacoli. La somma fra le due classifiche decreterà il vincitore di ogni singola categoria, ma ciò che importa ha sottolineato l'assessore allo sport, Mobono Meneghini, e avvicinare i ragazzi alla bicicletta. Abbiamo dato impulso a questa manifestazione perché riteniamo che la bicicletta possa essere oltre che un'occasione di mobilità, di sport, di divertimento e soprattutto per i bambini in un contesto come quello che è il parco della zona di Via Maffei, il parco che sta attorno al patinodromo è assolutamente un'occasione di divertimento, di svago, di sport e perché no, per magari avvicinarsi alla pratica di uno sport che è un po' penalizzato per quanto riguarda la sua pratica, visto che non può essere normalmente realizzata negli impianti sportivi al chiuso, ha bisogno di spazi aperti, ha bisogno di strade, di percorsi magari dedicati. In questo caso siamo riusciti a risolvere tutti questi problemi, tutto questo tipo di necessità, andando a realizzare una manifestazione in una zona al verde, dove non è presente il pericolo del traffico urbano, dove i ragazzi possono tranquillamente competere in un contesto di assoluta sicurezza. Siamo contenti e anche perché il ritorno alla risposta è sempre stata più che soddisfacente. Con già più di 100 iscritti, l'appuntamento offre anche un importante momento di aggregazione ed educazione stradale, con un giro in gruppo per le vie del centro in compagnia dei vigili urbani. I bambini, i ragazzi e le ragazze che si avvicineranno alla bicicletta avranno modo di potersi confrontare, non solo dal punto di vista agonistico, se così si vuole dire, durante le competizioni, ma avranno anche modo di confrontarsi con quello che è l'ambiente cittadino, dunque il rispetto della circolazione urbana, il rispetto delle precedenze, il saper affrontare un percorso cittadino in sicurezza e soprattutto non causando ostacolo o non creando pericoli per se stessi e per gli altri.